Amianto, Regione Lombardia è soddisfatta del lavoro fatto, mappatura dei siti e presa in carico dei pazienti affetti da mesotelioma. Lo ha dichiarato ieri l'assessore al welfare Giulio Gallera, precisando come ancora molto resti però da fare. L'87,7% dei manufatti di proprietà privata è ancora da bonificare, benché il 97% dei circa 205.000 siti censiti non presenti problemi di carattere sanitario. In particolare a Cremona le criticità riguardano per lo più capannoni artigianali con tettoie in amianto, garage e cascine agricole, ma non mancano decine di scuole in tutta la provincia nella stessa situazione. Ed è proprio qui che il comune di Cremona, pur non volendo far polemiche, non nasconde il suo rammarico, perché sì, afferma l'assessore alla casa Andrea Virgilio, la regione ha investito un sacco di soldi, però di questi Cremona non ha visto un centesimo. I progetti esecutivi presentati sull'edilizia scolastica, proprio sulla questione amianto, sono entrati nelle graduatorie regionali, ma vengono ogni volta scavalcati da altri. Così il comune ha messo mano al proprio portafoglio per sistemare la scuola Trento e Trieste, diversi istituti per l'infanzia, il primo all'altro la media Virgilio, il secondo verrà sistemato la prossima estate, e il cantiere la palestra a Stradivari, che dovrebbe iniziare a fine anno, inizio anno prossimo e durare fino a marzo-aprile, costo altri 300.000 euro, oltre a quelli già spesi per tutte le altre strutture. L'assessore Virgilio procede comunque, paga e quasi non ci spera più nei finanziamenti regionali, se però arrivassero almeno qualche volta par di capire che sarebbe felice di ricredersi.